Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registrano 3 km di coda tra Montelupo Fiorentino e La Strassigna in direzione Firenze e 3 km tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Code anche a La Strassigna in uscita a causa del traffico intenso provenendo da Firenze. Code invece a causa di lavori in A11 tra l'allacciamento con la 11 e Versilia in direzione Genova. In A1 si ricorda che fino alle 18 di giovedì 18 marzo rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in entrambe le direzioni a causa di lavori. Cantieri di Firenze per lavori alla rete idrica chiusa la rotatoria in piazza Taddeo Gadi nel tratto tra Via dei Vanni e Via Bronzino fino al 19 marzo. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!